Per portare a termine un'operazione serve un'esperienza, studio, concentrazione e capacità. Tanto per far decollare un aereo quanto per lanciare un'esca in acqua. Sono Roberto Ripomonti, di professione faccio il pilota. Ma quando scendo dal mio aeromobile mi dedico alla mia più grande passione, la pesca. In questa serie andremo a farvi conoscere quelli che sono alcuni paradisi della pesca del nostro paese. E allora benvenuti a bordo, allacciate le cinture, destinazione pesca. Cari amici, bentornati a Destinazione Pesca. La pesca dalla spiaggia è sicuramente una delle tecniche più amate e praticate nei nostri 9.000 chilometri di coste. Una tecnica di pesca che ha radici profonde nel nostro paese, che si può ed è praticata ovunque da veramente migliaia di appassionati. Siamo nel Trapanese, siamo in Sicilia e in questa occasione andremo a visitare delle spiagge davvero particolari per cercare di vivere delle sessioni di pesca veramente speciali. In questo momento siamo sulla spiaggia di Alcamo, siamo al tramonto, perché questa è una tecnica di pesca che si sviluppa di giorno, ma di notte trova la sua esaltazione, le sue prede migliori. Il Sercasting, così si chiama questa tecnica di pesca, è qualcosa che è nato nelle spiagge atlantiche per i grandissimi predatori. Noi l'abbiamo presa, l'abbiamo trasformata e ne abbiamo fatta una specialità nella quale noi italiani in particolare siamo eccellenti, perché abbiamo creato degli standard e abbiamo insegnato a tanti altri come affrontare queste spiagge, che sembrano in certi momenti dei deserti aridi, ma in realtà, nelle giuste condizioni, sono dei tesori tutti da scoprire. Per cui, seguitemi, iniziamo questa nuova avventura di Sercasting, tecniche di pesca dalla spiaggia. Roberto inizia a scaldarsi in attesa dell'arrivo del suo ospite di oggi con la cattura di un pesce davvero particolare. Questo è solo l'inizio. Le acque della Sicilia sono in grado di regalare emozioni incredibili. Ed ecco la prima, anche se piccolissima preda di questa sessione dalla spiaggia, la aguglia. Pesce bellissimo, che va trattato con tutti i riguardi, ovviamente. Eccolo qua, piccolina. La lasciamo andare, così ne approfitto per andare a presentarvi quello che sarà il compagno di questa pescata, il campione che andrò a sfidare. E quindi andiamo a conoscerlo. Giuseppe Peppino Alesi inizia l'attività di pesca a soli cinque anni. Dal 1993 intraprende l'attività agonistica nel settore di surfcasting, distinguendosi in moltissime competizioni nazionali ed internazionali. Per anni è membro del Club Azzurro e da sempre fa parte della società polisportiva La Torre di Palermo, la squadra più titolata d'Italia nella specialità surfcasting. Chiari amici, ho il piacere di presentarvi Peppino Alesi, un grande campione, Club Azzurro, ha vinto un sacco di gare, ha ottenuto dei risultati estremamente importanti nella sua carriera, è un grandissimo esperto oltre che essere un caro amico. Peppino, grazie. Grazie a te. Questa spiaggia questa sera. Io ho detto mormore, è giusto o ho detto una cosa sbagliata? No, hai detto bene. E non mai. Allora, questa spiaggia ultimamente ha avuto come dire un ripopolamento, soprattutto di orate. Ci sono tante orate che si fanno chiaramente a giorno, soprattutto quelle più grosse. Le piccoline a buio, però col calar della notte diciamo avviene come dire un'entrata massiccia di mormore e siamo qui appunto per cercare di beccare qualche bella mormore. Peppino, io ti devo dire una cosa. Lo stile di questa trasmissione prevede che io ti debba sfidare. Accetto la sfida. Accetto la sfida. Sì, certo. Decideremo dopo quale sarà il pegno che in me... Cioè, sto pescando contro un monumento, quindi va bene. Tra l'altro a casa sua io gioco sempre fuori casa, non è neanche giusto. Quindi facciamo che i due pesci miei valgono doppi come i gol. No. No? Sì. No, no, no. Dai, dai. Un pesce contro uno a uno. Ci divertiamo. E il pegno lo decidiamo dopo. Vediamo come mi conviene, ok? Ok, ok. A fare fatta. A fare fatta. In questa spiaggia, che è una spiaggia famosa perché durante il giorno può regalare delle orate, stasera cercheremo di pescare un'altra delle prede tipiche del surfcasting mediterraneo, la mormora. La mormora, pesce costiero molto presente nei nostri mari, ha grande importanza sia nella pesca sportiva, sia nella pesca commerciale, dove viene insidiato con tramagli o altri atrezzi costieri. Nelle regioni italiane, dove viene pescata, viene chiamata in molti modi diversi. In Sicilia, ad esempio, è conosciuta come gaiulu o aiula. Il surfcasting ha specifiche tecniche molto differenti rispetto alle altre tecniche utilizzate nella pesca, sia per quanto riguarda le canne, sia per quanto riguarda le esche. Roberto e Peppino, mentre cala la notte, eseguono qualche lancio di riscaldamento e ci spiegano nel dettaglio le caratteristiche di questa tecnica. Questa è una tecnica di pesca particolarmente spettacolare e per l'ambiente in cui si svolge, le spiagge, il mare mosso e perché richiede dei lanci molto lunghi, attrezzi molto potenti e anche un abbigliamento diverso da quello che può essere quello della pesca normale. Panoramica delle esche, visto che sta arrivando la notte, Peppino, puntiamo alla mormora, quindi usiamo anelli di genericamente, quindi vermi o qualcosa di simile. Verme, americano, coreano, però l'esca principe in assoluto è l'arenicola. La famosa arenicola, che poi andremo a vedere nel dettaglio. Saltarello coreano, cosiddetto, il bibi, un'esca molto particolare, molto abbondante, facile da usare. L'arenicola, che è un verme che si trova nella sabbia mista a roccia, esche per puntare la mormora. Ma attenzione, stasera le mormore, domani, perché se accassi anche conoscenza della meteorologia, dei venti e delle maree, ci sposteremo a circa 100 km da qua, in un'altra spiaggia, dove dovremmo, speriamo di trovare, le condizioni ideali per insidiare l'orata. La notte è ormai arrivata. In queste condizioni la concentrazione deve essere al massimo. Il primo ad eseguire un recupero è Peppino, che oltre ad essere un campione, conosce come le sue tasche questo territorio. Ma capita anche ai campioni di avere deluse le aspettative. Peppino, ti vedo in una posizione classica. Una micro mormorezza. Mi aspettavo qualcosa di meglio da te, devo dire. Infatti, anche io, veramente. Comunque siamo uno pari perché l'ho presa anch'io, anche se non è stata ripresa. Con la situazione sfida sull'uno a uno, la pesca continua. Eccola qua, eccola qua, eccola qua. Ai, 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 aia. È bel mormorone, ecco. Questo è mormorone. Bella. Sono contento. Si fa per dire, non scherzo. Bella, finalmente. Bravo, Peppino. Pesce, questa è la mormora che stiamo cercando. Magari è anche un po' più grande se arriva. Di cui parlavamo, sì. Di cui parlavamo. Ma esistono più grosse, ovviamente. Eh, parecchio più grosse. Sembra che qualcosa sia venuto a visitare il mio trave, decisamente. Vediamo. Con questa canna leggerissima è anche un piacere pescarlo. E si sta alzando il vento. E questa sembra proprio una mormora. Sono qua. Eh, guarda un po'. Guarda un po'. Eccola, bella, bella, bella. Dai, dai. Eccola. È arrivata anche lei. Oh là là. Complimenti, Roberta. Detto fatto. Detto fatto. Detto fatto. Complimenti davvero. Bella pescata. Sta prendendo, come si dice? Forma. Forma. Quando il mare è generoso, diciamo sempre, cerchiamo di essere generosi con il mare. C'è l'onora. Grazie. Tieni la canna. La mormora. Peppino, direi, punto della situazione. Abbiamo preso le mormore che volevamo prendere. Le abbiamo fatte. Le abbiamo prese. Il tempo però sta peggiorando decisamente. Il vento è forte, arriva l'acqua. Io ti propongo di fare una cosa molto semplice. Visto che siamo in Sicilia, io non è che venga troppo spesso in Sicilia, adesso andiamo a mangiare qualcosa di speciale. Certo, qualcosa di tipico siciliano. Perfetto. E poi domattina in un posto stupendo. E allora non sveliamo il trucco, la sorpresa. Questo posto stupendo lo vediamo domani. Noi andiamo a mangiare. Ciao, ciao. È mattina presto. I nostri si sono spostati di circa un centinaio di chilometri per raggiungere la provincia di Agrigento su una spiaggia che lascia a bocca aperta per la sua bellezza. Eccoci qua. Mattina presto, le prime luci dell'alba. Abbiamo dormito forse quattro ore. Ora siamo nella spiaggia di Bovo Marina. Una spiaggia famosa perché regala delle grandi emozioni. Il mare è in condizioni pessime, va detto. Mare calmo, surf casting prevederebbe l'onda. Non sempre la si può ottenere. E di conseguenza siamo costretti ad applicare un qualche cosa che non avevamo completamente pianificato. Continuiamo la nostra ricerca. Il nostro obiettivo, quello di Peppino, Alessia e il mio, è quello dell'orata. L'orata è uno dei pesci simbolo di tutta la fauna ittica mediterranea. Inconfondibile per la sua forma ovale e per la sua colorazione azzurrognola sul dorso e di fianchi argentei. Si muove in solitaria o in piccoli branchi. Animale sospettoso e cauto nelle mangiate, è dotato di denti affilatissimi e mascella potente. Ed il suo recupero mette sempre a dura prova i pescatori che tentano di insidiarlo. Questa spiaggia offre uno spettacolo mozzafiato. E si trova nelle vicinanze di uno dei siti archeologici più belli di tutta la Sicilia, che una volta era Magna Grecia. Eraclea Minoa, ora zona di un importante parco archeologico, era antica città greca, il cui nome combina un tributo ad Eracle, eroe mitologico ed al re cretese Minosse. La leggenda racconta che Minosse inseguì Dédalo in fuga fino a queste coste, per punirlo dell'aiuto dato a Teseo ed Arianna. Qui, il creatore del più famoso labirinto della storia, trovò difesa presso il re Cocalo. Minosse, una volta raggiunto l'architetto greco, pretese gli venisse consegnato. Ma Dédalo, con l'aiuto delle figlie di Cocalo, uccise Minosse e per molti anni si stabilì in Sicilia. La geografia di questa zona toglie il fiato. Camminando lungo la spiaggia, alla fine della pineta, si trova l'imponente scogliera di marna bianca, erosa dai flutti nei secoli, che cade a picco sul mare, concludendosi con un cono a punta dai mille toni di colore del bianco. Andiamo ora a vedere in maniera più specifica l'attrezzatura che caratterizza il surfcasting. Il surfcasting si caratterizza per una serie di attrezzi davvero particolari, perché le canne sono veramente potenti. Non tutte, e andremo a vedere con Peppino alcuni tipi di canne. Ne abbiamo due qua davanti, ce ne sono diverse ovviamente. Le canne ma non solo, anche i mulinelli, sono molto più grossi di quelli che siamo abituati ad esempio a utilizzare nelle acque interne. E andiamo a vedere subito uno di questi accessori. Le canne da spiaggia vanno da una lunghezza minima di 3,60 m fino a 5 m, che è il massimo consentito durante le competizioni agonistiche. Questa canna che ho appoggiata sulla mia spalla è una canna appunto da 5 m per la pesca leggera. Una sessione di oggi può iniziare. Tuttavia, le condizioni di pesca non sono ottimali. Come Roberto ci aveva già detto, questa tecnica regala il meglio quando il mare è molto mosso. Ugualmente i nostri ce la metteranno tutta nella loro caccia alle orate. Visto che questa è una pesca di attesa, con un mare particolarmente calmo, andiamo a vedere qualche immagine invernale, che è la stagione tipica del surf casting, per capire che cosa può accadere quando il mare è mosso e ci sono le condizioni perfette. Eccolo. Oh, spigolone, spigolone, spigolone. Piano, 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 non perdiamolo adesso. Via. Presa. Bella grande, Roberto. Bella grande. Di qua, di qua. Eh, che pesce! Ogni pescatore vorrebbe sempre avere giornate così, ma sa invece che deve attendere con pazienza le decisioni del mare, con la certezza che se ne avrà rispetto, verrà premiato. Devo tanto attendere, non mangiata, c'è movimento di pesce, è cambiata la condizione meteorologica, è arrivato un bel venticello che ci rinfresca. Io sto pescando un filo molto sottile, eccolo qua. Probabilmente è una lecciastella, una discreta lecciastella. Pesce bellissimo, che adesso cerchiamo di tirar fuori dall'acqua. Eccola! Bellissima lecciastella. Vai, Peppino! Questa è un'altra delle prede tipiche della spiaggia, un pesce dalle fattezze meravigliose, come si può vedere. Veramente bello. Le orate tardano ad arrivare, ma questo è un mare vivo e ricco di pesce. Così le catture proseguono con una guglia e con una triglia. Ma come sappiamo, la tenzone si basa sulla cattura dell'orata. Così Roberto si gioca l'esca ideale per le condizioni attuali del mare. Questa è un'altra esca particolarmente efficace. La renicola, la regina delle esche, anche perorata in queste situazioni di mare calmo. Un verme rosso, molto molto gradito dai nostri amici. Tutti praticamente quelli che abitano le spiagge. E adesso passiamo al lancio. Le ore passano ed il sole inizia a scendere. Nonostante il cambio di esca, le orate proprio non ne vogliono sapere di abboccare. Mentre altri pesci si fanno catturare più volentieri. Cosa che comunque è fonte di grande soddisfazione per un pescatore. Una spigoletta. Oh, piccolina. Aia, una baby spigola. No, non è immaculata, è la spigola normale. Ah, la spigola normale. Eccola qua, la spigola. Certo, pensare che può arrivare a 15 kg questa signorina. Infatti. Però adesso, per non scioccarla oltremodo, direi che la lasciamo immediatamente andare, Peppino. Sì, sì, certo. Bella pesce. Cerchiamo di prendere quella grossa. Quella grossa, vai. Peppino, è grossa? Sì. Oh, la, 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 la. Questa è una lecce a Stellavera. Certo, va? Bella, bella. La pesce si commenta da solo di una bellezza incredibile. Incredibile. Anche agganciata bene. Flotterino rosso. e puntiamo a queste. La posso rilasciare? Cosa vuoi fare? Sì, certo. Lasciamo andare? Via. Viva. La giornata volge al termine. È il momento di tirare le somme. Sia sulle catture, sia sulla sfida. Il sole sta tramontando ed i giochi sono fatti. Roberto sa che dovrà pagar pegno. E Peppino ha in serbo una bella sorpresa. Allora, Peppino, io direi che è il momento di fare un recap. Ricapitoliamo la situazione. Molte ore di pesca. Abbiamo preso un sacco di specie di pesci differenti. Circa sette specie. Sette specie. Purtroppo, a parte quella bellissima lecce a Stella, è una lecce a Stella che ho preso io. Tutti pesci occhi. Tutti pesci piccolini. Però abbiamo ancora, direi, un'oretta, un'oretta e mezza di pesca. Sei in netto vantaggio. Ovviamente la lecce a Stella batte come se avessi fatto un full d'assi. No, un pover d'assi contro un full, è abbattuto. Vabbè, poco male. Quindi mi toccherà offrirvi la cena e la andremo lì, direttamente sulla spiaggia. Ci sarà qualche altra cosa come penitenza. Cos'è per dire, scusate? Eh, vabbè, poi lo vedrai. Vabbè, vabbè. Vabbè, vediamo di cosa si tratta. Eventualmente non lo faccio, scappo. Non puoi scappare, non puoi scappare. In zona Cesarini, proprio all'ultimo lancio, anche il mare fa una sorpresa ai nostri, regalando la preda più ambita e cercata durante tutta la giornata. Ma non la prendono né Peppino, né Roberto, ma Vincenzo, un amico e compagno di pesca di Peppino. Orata, orata, orata. È sotto, bella, vai. E alla fine è arrivata l'orata. Eccola qua. Finalmente. L'abbiamo fatta, va bene. È arrivata l'orata. Eccoci qua. Il momento del desio. Accumulatevi. Finalmente. Allora, Peppino, hai vinto la sfida? Comunque, in realtà, è stato un pareggio alla fine, veramente. Vabbè. Io ti ringrazio, però per me è un grande piacere essere qui seduto a tavola con voi. Voglio ringraziare Peppe, Vincenzo e te per l'ospedalità straordinaria in questo posto bellissimo. Per cui io direi adesso è con grande piacere che direi che cominciamo a mangiare. Grazie per la cena, però siccome sappiamo che tu tieni tanto alle nostre tradizioni, abbiamo pensato di farti una cosa carina e simpatica, che è questa qua. La coppola, effettivamente siciliana. È molto bella. È questo? Schiaccia pensieri, dai tu un marranzano. Un marranzano, quindi io dovrei farci cosa con questo? Devi imparare a suonare questo strumento. Va bene, la coppola da un minuto in testa molto volentieri e che poi me la tolgo perché a tavola si sta senza cappello. Imparerò a suonarla e direi mi tolgo il cappello. Buon appetito, cari amici. Concludiamo questa bellissima giornata qui a Bobo Marina con una massima presa direttamente dal mondo che mi appartiene, il mondo del volo. Si dice che esistano delle regole precise per un atterraggio perfetto. Sfortunatamente nessuno le conosce. Così, trasportando questo concetto nella pesca sportiva, noi sappiamo che esiste la marea, esiste la luna, esistono le correnti, esiste la meteorologia, però tanto poi alla fine decidono sempre i pesci. Adesso mi tocca suonare questo. Aia! Ma non funziona. Io ho anche una lingua, però imparerò prima o poi. Aia!